ragazzi buongiorno a tutti questa mattina mi sono svegliato e come al solito ho guardato le notizie sui vari siti web e mi ha dato l'occhio su più di qualche notizia inerente a quello che sto per dirvi però in questo video voglio il vostro aiuto nei commenti cosa ne sapete voi cosa ne pensate di questo ipotetico megagalattico affare affarone proprio non smentito da marotta marotta non l'ha smentito assolutamente trattasi di una notizia che è stata lanciata dall'ex calciatore portiere sebastian frey ve lo ricordate quel grosso portierone che gli piaceva pure mangiare anzi piace ancora tuttora mangiare e si vede ma anche a me piace mangiare per carità però lui era un atleta e a volte difettava con qualche chilo di troppo però era sempre un ottimo portiere ma sto parlando di benzema all'inter è in rotta con la squadra dell'arabbia saudita e quindi se sanchez andasse via si libererebbe una uno slot e praticamente benzema arriverebbe in casa nera azzurra una notizia assurda a dir poco assurda ragazzi ma vi pensate voi l'inter che già ha una coppia d'attacco fenomenale con lautaro e turam arnauto vince in panchina gli ci metti anche benzema ragazzi benzema lautaro è qualcosa di inaudito vincerebbero la champions league non dico a mani ma quasi io non lo so se sia una notizia buttata la per fare share per fare hype però parliamo di sport mediaset di siti web che non sono non danno fake news c'è questo interessamento appunto menzionato dal portiere l'ex portiere frey dell'inter nei confronti di benzema che però se andiamo a guardare sembrerebbe non fattibile perché ragazzi benzema karim benzema prende 50 milioni di euro all'anno dal dalla rabbia 50 milioni di euro se venisse all'inter penso che quella cifra non non se la potrebbe permettere assolutamente non è che io voglio fare i conti in tasca alla alla squadra di milano per carità però una cifra è una cifra astronomica quindi se venisse alla corte di simoninzachi penso che si dovrebbe decurtare drasticamente il suo stipendio però ragazzi io sto vedendo che molti giocatori non si trovano bene in quel campionato che è la saudi pro league sono partiti tutti con questo diciamo sogno del del soldo facile no perché con quello che che guadagnano hanno messo al sicuro al riparo da qualsiasi evenienza negativa tutte le prossime generazioni delle loro famiglie no però magari andando lì non si trovano bene sono depressi calcisticamente parlando e quindi magari gli piacerebbe ritornare in europa e giocare nel calcio che conta perché lì ragazzi ho visto qualche partita sono deprimenti gare proprio che non hanno vigore agonistico conta soltanto il denaro la il vile denaro vile denaro magari noi comuni mortali avremmo insomma magari le nostre tasche fossero più più piene di questo questo vile denaro appunto no magari ad avercene e ragazzi però loro è troppo è troppo e quindi magari un return come si dice back to future back to the future adesso faccio pure l'inglese in anzi ritorno al passato non il futuro di karim benzeman dal punto di vista sportivo non sarebbe un'eresia perché penso che non si trovano bene in quel campionato però all'inter sarebbe veramente una una cosa molto 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 straordinaria no perché l'inter già sta dominando questo campionato e quindi avere in casa karim benzema lo ripeto karim benzema uno dei migliori centravanti e parliamo di centravanti della storia dell'ultimo ventennio ce ne sono pochi come lui no mi viene in mente hoiland hoilund no che hoiland holland anche hoiland è un bel giocatore però hoiland del manchester city ronaldo il fenomeno pochi altri henry kane e cosi man adesso però karim benzema pallone d'oro ragazzi pallone d'oro ha vinto di tutto col col real madrid perciò non lo so se sa si andrà in porto questa questa trattativa però le notizie sono fondate sono fondate perché ripeto marotta non le ha smentite quando gira una una notizia falsa una fake news la società è la prima che smentisce no in questo caso marotta non l'ha fatto voglio il tuo commento è voglio sapere cosa ne pensi lascia un like a questo video iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto attiva la campanella delle notifiche e seguimi su instagram ti lascio il link in descrizione ciao da enrico caffarelli